SDM News, il primo TG degli sport outdoor di montagna, a cura di Maurizio Torri. Ben ritrovati con SDM News, il primo TG degli sport outdoor di montagna, anche questa settimana una puntata tutta da vivere a fil di cielo, con sci e scarpette da trail running. Coppa del Mondo, ISMF di sci alpinismo, dopo l'annullamento della individual, torna a splendere il sole sulle vette andorrane. Nella gara vertical, Michele Boscacci ci prova, ma deve fare i conti con lo zoccolo alle pelli. Sale in cattedra Davide Magnini, che chiude secondo alle spalle di Anton Palser. Sono molto contento della gara di oggi, è stata una bella battaglia. Siamo partiti molto forte fin da subito, ero intorno alla quinta posizione. Sapevo che per fare bene bisogna partire da subito forte, che è un po' il mio problema di solito. Però sono riuscito a tenere duro nella prima parte, dove faccio più fatica. E sui muri finali ho provato a portarmi avanti, ho visto che la gamba stava bene. E sul finale mi sono trovato a battagliare per la prima posizione con Palser. Quindi sono molto soddisfatto, non potrei chiedere di meglio. Poi sul finale avevo un po' di zoccolo e Palser era nettamente più forte. Quindi va benissimo questo secondo posto, sono contento così. Nella gara in rosa, migliore delle azzurre, ancora una volta la capitana Katia Tomatis. Sì, sono contenta, perché oggi il livello nuovamente era alto. C'era una ragazza che non prevedevo, ma alla fine è andata bene, sono contenta. Axel la pensavo già vincente, ancora prima di partire. Poi ho visto l'austriaca, che pensavo che le desse filo da torcere. Invece ho visto che lei ha preso il suo bel ritmo. Io mi sono piazzata dietro, ho cercato di non mollare, di tenere fino alla fine. Ho dovuto sprintare all'arrivo, ma è stata una bella gara. Al Bosaggia, la mitica gara del meriggio, non delude. Vincono l'edizione 2018 Filippo Barazzuol e Corina Ghirardi. È stata veramente una gara di sciarpinismo in ambiente, molto bosco, molto da sciare. Tanta traccia, qua ovviamente non ci sono piste. Anche pezzi della cresta, arrivano sul meriggio, molto panoramici. Diciamo che è stata una bella giornata. Io la forma c'è e spero di continuare così a portarla fuori. Tantano è stata un po' una prova generale per capire come stavo, perché è stata praticamente la prima gara che facevo. Avevo lavorato bene inizio anno, poi mi sono ammalato e quindi la forma non sapevo com'era. Invece per fortuna c'è, sto bene e spero di continuare così. Conoscevo già il percorso qua in Al Bosaggia, perché avevo già corso. Ho combattuto quasi tutta la gara con la mia compagna di sci club Bianca Balzarini. Il ritmo era bello serrato, belle salite, belle discese. Sono riuscita a spuntarla nell'ultima salita e oggi bel bottino, bella giornata. Su podio anche Martina Valmassoi, a rientro alle gare dopo una bella esperienza oltreoceano. Sono tornata due settimane dall'America. È stata un'avventura, una bellissima avventura, anche se purtroppo i miei piani non è andata come speravo. L'obiettivo principale per me era andare via e sciare, solamente che ovunque io mi sposti, probabilmente non porto fortuna all'inverno. Sono andata in Colorado, dove di solito ci sono 10 metri di neve a gennaio e invece non ce n'erano neanche 40 centimetri. Ero a camminare a 4.000 metri, però devo dire che ho fatto altro. Sono stata felice che il mio ginocchio ha retto e quindi sono riuscita a correre e semplicemente a esplorare. L'obiettivo non era di certo fare allenamento, era proprio viaggiare e scoprire un po' di posti nuovi. Quindi sì, è stato veramente bello, ho conosciuto un sacco di persone e un'esperienza sicuramente da rifare magari con un inverno migliore. Però sono felicissima di essere tornata e finalmente anche da noi quest'anno c'è un inverno vero, neve, è quasi irreale dopo due anni sfortunati. E quindi niente, se posso consigliarlo, Colorado, posto da visitare, se avete la possibilità. E niente, spero che siate più fortunati con le condizioni nevose di quello che sono stata io, però si può fare anche altro. Dolomites Run 2018. A partire da quest'anno, le tre prestigiose manifestazioni organizzate negli spettacolari scenari naturali della Val di Fassa, Dolomites Sky Race, Dolomites Vertical Kilometer e Sella Ronda Trail Running, verranno riuniti sotto un unico brand. Nel mese di luglio, per dieci giorni, Diego Salvador e il suo staff proporranno agli appassionati della specialità un calendario di eventi cult, ai quali sarà difficile resistere. Dopo aver festeggiato i vent'anni di vita nel 2017, la più affollata delle tre competizioni diventerà così la Dolomites Run Sky Race. La corsa contro il tempo, da Alba a Crepa Negra, il Dolomites Run Vertical Kilometer, mentre la manifestazione sulla lunga distanza, che conduce intorno al gruppo del Sella, tra Trentino, Alto Adige e Veneto, prenderà il nome di Dolomites Run Sella Ronda Ultra Trail. Quest'ultima si disputerà sabato 14 luglio, il verticale, venerdì 20, mentre la Sky andrà a scena domenica 22, da non perdere infine la Dolomites Run Mini Sky Race di sabato 21. Il cambio di look coincide anche con un accordo di collaborazione stretto fra il comitato organizzatore ed un marchio di prestigio, quale Salomon. Per maggiori informazioni e iscrizioni, www.dolomitesrun.it La sportiva mountain running cup, la seconda tappa, quella di Ledro, è già quasi da sold out. A pochi giorni dall'apertura e iscrizioni, la Ledro Sky Race è riuscita a confermare le aspettative. Dopo il sold out dello scorso anno non era facile mantenere lo stesso livello. Siamo riusciti ad assegnare 400 pettorali in un solo fine settimana. Ne mancano solo poche decine per raggiungere un nuovo sold out. Questo successo è dovuto a tre fattori, soprattutto. Uno, un staff organizzativo dell'S di Tremalzo che cura nel dettaglio ogni particolare. Due, un percorso di 19 chilometri e 1600 metri di dislivello che riesce ad aggradare anche lo skyrunner più esigente. Terzo, fattore non meno importante, anzi forse il più rilevante, l'ingresso della competizione nel circuito alla sportiva mountain running cup. Un fattore che ha dato un grande rilancio alla competizione ed ha aumentato a dismisura il livello di immagine di questa gara. In ottica circuito a maggio riapriremo le iscrizioni per altri 100 pettorali. Questo avverrà subito dopo la prima tappa, la 30 passi di Marone. Questo per dare la possibilità ancora a 100 concorrenti di partecipare alla nostra competizione in primis e poi a tutto il circuito della sportiva. L'appuntamento quindi è col 10 giugno sulle sponde del lago di Ledro. Non perdete l'occasione di partecipare alla nostra gara e di correre sul sentiero delle Gresta. Anche per questa settimana è davvero tutto, il nostro consiglio è sempre lo stesso. Veloce i cambi e giopomba in discesa! SDM News Il primo Tg degli sport outdoor di montagna A cura di Maurizio Torri